Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video della serie Le Materie Prime della Profumeria. Per il mese di novembre ho scelto una delle note legnose per eccellenza, e cioè il sandalo, che mi sembrava proprio adatto al periodo. Allora, il sandalo non è nient'altro che un albero, Santa Luma Album, diffuso principalmente nella parte sud dell'Asia, la parte tropicale. L'India è sicuramente il principale produttore e esportatore di questo olio essenziale. È un albero di discrete dimensioni, può raggiungere anche i 9 metri, viene definito spesso un albero parassita. Ora, non è che strati di un vero e proprio parassita, però le radici del sandalo tendono a invadere lo spazio delle radici degli alberi circostanti e a rubare nutrimento alle altre piante, per questo viene definito così. L'olio essenziale viene estratto dalla parte legnosa, quindi il tronco e le radici anche, per cui già solo per questo l'estrazione dell'olio essenziale di sandalo ha un forte impatto sull'ambiente, perché gli alberi vengono proprio sradicati per poter appunto attingere anche alle radici, ma non solo. L'albero del sandalo per poter produrre l'olio essenziale deve avere almeno 30 anni di vita, ma per le concentrazioni di santanolo più alte, fino al 90%, quindi gli oli essenziali più pregiati, si deve arrivare anche a 80 anni. Quindi è sicuramente una di quelle materie prime che a livello naturale ha un grosso impatto, c'è tutta una regolamentazione proprio politica e legislativa sull'estrazione e l'esportazione del sandalo, ma comunque c'è una grossa fetta del mercato illegale che si occupa di esportarlo. Quindi è un discorso un po' delicato che non voglio approfondire, però diciamo che ha un impatto molto negativo sull'ambiente e l'estrazione di questo olio essenziale. Sicuramente è un problema più di oggi, perché il sandalo è una delle note storiche della profumeria, ma non solo della profumeria, è uno di quegli oli essenziali che veniva utilizzato anche nell'antichità, abbiamo notizie di più di 4.000 anni. Quindi mentre una volta comunque la quantità richiesta, seppur alta, non aveva questo impatto magari così devastante, con le produzioni a livello industriale comunque su larga scala questo problema è diventato più grande. Come dicevo è una nota che è intrinsecamente legata alla spiritualità, perché veniva utilizzata fin dall'antichità sia nei rituali religiosi, come per esempio nell'imbalsamazione dei corpi, erano degli oli che venivano utilizzati, veniva bruciato così come l'incenso nei rituali, ma veniva anche usato come disinfettante. Quindi diciamo che durante tutta la sua storia è uno di quei profumi che è sempre stato associato alla spiritualità e alla religione, cosa che oggigiorno forse non è più così tanto, quanto meno per la percezione di noi occidentali, perché sicuramente per un orientale, penso a un indiano, comunque l'odore del sandalo ha una connotazione spirituale, mentre per noi è più un qualche cosa di esotico, ha un rimando esotico e sensuale anche, perché comunque il sandalo è una nota legnosa molto calda, molto avvolgente, è un tipo di legno che si presta a essere inserito in profumi molto sensuali, infatti lo troviamo praticamente sempre nei profumi orientali, quasi sempre nel fondo perché è un ottimo fissativo, quindi lo troviamo quasi sempre nel fondo, in generale nei profumi legnosi però il sandalo è sempre presente, e appunto per noi fa parte di quelle note orientali, ma sicuramente per un indiano, comunque per un orientale, il rimando mentale è diverso. In ogni caso si dice che stimoli la parte destra del cervello, quindi quella più legata alla creatività, ma anche all'emotività, così come anche la spiritualità, diciamo non la parte razionale. L'olio essenziale viene estratto principalmente in distillazione tramite vapore, corrente di vapore, oppure con la CO2. Come vi dicevo è una nota largamente utilizzata, è stata sempre utilizzata dall'alba dei tempi, e ancora oggi è una delle note che viene più inserita nei profumi, forse più nei profumi maschili, ma non solo, nei profumi orientali da donna comunque lo troviamo spesso, proprio per la sua caratteristica morbida e calda, però forse in percentuale ecco più nei maschili. Di sicuro quando si tratta di un profumo legnoso, il sandalo al 90% è presente. Allora, cercherò un po' di descrivervelo, comunque poi dopo come sempre vi darò dei nomi di alcuni profumi in cui il sandalo è ben riconoscibile, quindi potete annusarlo, però diciamo che è un legno caldo, è il primo aggettivo che mi viene in mente, molto caldo, molto avvolgente, direi morbido, ci sono alcune sfaccettature che sono quasi polverose, ricordano il legno secco, secco, sbriciolato, altre invece che sono più animaliche quasi, io molte volte trovo che il sandalo possa avere un risvolto animalico, in molte cose mi ricorda il cuoio anche, lo troviamo anche spesso associato e ci sta secondo me, sono due note che si associano facilmente, così come il tabacco, cioè sandalo, tabacco e cuoio secondo me sono tre note che danno dei rimandi simili e si associano anche bene tra di loro, comunque il sandalo come legno ha una sommatura vagamente anche cuoiata e animalica ed è uno dei motivi per cui su di me, come vi ho detto molto spesso, il sandalo è una di quelle note che tende a emergere, tende a farsi sentire tanto, ora è comunque una nota di fondo perché le molecole quindi sono più pesanti, quindi ci mette di più a emergere, ma ha anche una lunga persistenza, come vi dicevo è usato spesso da fissativo, fissativo che però dà un'impronta ben precisa al profumo, è una nota che si fa comunque sentire, non passa inosservata ed ha sempre quella sfumatura per noi orientale, comunque sensuale, trattato in altri modi, trattandolo in maniera più secca, cioè facendo venire fuori la parte più secca, si lega molto bene anche all'incenso, come vi ho detto è una di quelle note sicuramente molto versatili, ma antica, che quindi nell'antichità veniva spesso fumigato, esattamente come l'incenso, come l'oud, quindi sicuramente incenso, oud e sandalo sono tre note che anche loro legano molto bene, e dopo vi citerò Dusara, un profumo di animamundi di cui vi ho già parlato, che proprio contiene tutte e tre queste note, quindi lo possiamo trovare in profumi molto maschili, molto leognosi, balsamici, oppure lo possiamo trovare in profumi femminili, solitamente associato a dei fiori, molto spesso associato alla rosa, ci sono tantissimi bei profumi di rosa al sandalo, comunque in generale profumi orientaleggianti, da donna, perché comunque dà questa connotazione molto calda, che si presta a un profumo orientale, magari un profumo autunnale invernale, cioè profumi un po' più impegnativi, e anche per quello che ve ne ho parlato adesso, perché per me, il sandalo è proprio la nota, che di più mi fa pensare all'autunno, insieme al paciuli, di cui vi ho parlato appunto nel mese scorso, e alle spezie, quindi queste sono le note, che per me identificano bene l'autunno, il sandalo proprio in assoluto è quello che mi dà più rimanda autunnale, perché sa di legno comunque, veniamo adesso ai profumi che ho selezionato appunto da proporvi come sniffo, per identificare bene la nota del sandalo, il primo è sandalo, proprio il sandalo di Ortigia, di cui avete un video, se andate a cercare nei miei video, c'è proprio il video sul sandalo di Ortigia, i profumi di Ortigia sono non proprio dei soli nota, ma quasi comunque si concentrano su una nota alla volta, quindi quel sandalo lì è un buon esempio, sicuramente dentro c'è altro, c'è del legno di cedro, che è molto spesso associato, però secondo me è una buona rappresentazione del sandalo, conserva un po' tutte le sue anime, c'è quella sfumatura vagamente animalica, c'è quella un po' più secca, è abbastanza tondo, come profumo non si evolve più di tanto, quindi durante l'indosso, continuate a sentire sempre un odore abbastanza stabile, quindi potete farvi il naso insomma, non costa molto, è un brand italiano, quindi secondo me è il primo che uno potrebbe prendere, per approcciarsi al sandalo, tra l'altro vi ripeto, è una nota perfetta per l'autunno, ed è assolutamente unisex, i profumi così, che si concentrano solo sul sandalo, come quello di Ortigia, secondo me sono proprio l'emblema dell'unisex, sono perfetti sia per maschi che per femmine, perché il sandalo è un legno sì molto caldo, vagamente dolciastro, ma non troppo, è anche in parte secco, ma non troppo, si presta veramente tanto, e regala proprio sfumature diverse, dalla pelle maschile alla pelle femminile, quindi è anche interessante vedere la differenza, sicuramente su un uomo, almeno di solito, tende a diventare più secco, più penetrante, vagamente cuoiato, vagamente tabaccoso, tende a assumere più quella sfumatura lì, invece sulle donne viene più fuori la parte morbida, quasi ambrata, e un po' più animalica, generalmente, però sapete che prendete con le pinze questa cosa, perché la pelle di ognuno è diversa, dopodiché invece vi cito il mio sandalo preferito in assoluto, che purtroppo non ho, ho solo dei campioni, ma è in wishlist, è uno dei prossimi acquisti, ed è Sant'Alnabatea di Mona di Orio, questo è un sandalo abbastanza puro, insomma il sandalo è proprio il protagonista assoluto di questa fragranza, si capisce anche dal nome, molto intenso, molto avvolgente, con una persistenza assoluta, sembra quasi licoroso, sembra di avere una coperta, come se il legno si sciogliesse, formasse una specie di involucro, è fantastico, è super super sensuale, non troppo dolce, spettacolare, il mio sandalo preferito in assoluto di tutti quelli che ho sentito, e sapete che è una nota che a me piace comunque, però ho insieme a una mia amica, che se guarda questo video saluto, Sagna, che lei ha dei gusti molto diversi dai miei, ma la prima volta che l'abbiamo sentito, ce lo siamo provate entrambe, e Sant'Alnabatea ha conquistato entrambe, quindi effettivamente deve essere un buon sandalo, dopodiché è un profumo molto famoso, vi cito, Tamdao di Diptyque, Diptyque è comunque un po' una garanzia, e anche quello è molto intenso, molto avvolgente, forse è meno puro, cioè è meno concentrato solo sul sandalo, ma il sandalo ha un ruolo importante, comunque un gran bel profumo legnoso, un po' balsamico, comunque adattissimo a questa stagione, quindi Tamdao sicuramente vi consiglio di non usarlo, anche perché è famoso, conosciuto, quindi ve lo consiglio, così come vi consiglio, qua un po' meno costoso, sandalo nobile di nobile 1942, altra azienda italiana di Genova, insomma un po' di parte, però i profumi di nobile, secondo me, hanno delle ottime materie prime di base, quindi è molto buono il sandalo utilizzato nel sandalo nobile, e anche lì vi fate proprio un'ottima idea, come ultimo vi ricito perché lo trovate nel video brand focus su animamundi, Dusara, che è il profumo dedicato alla civiltà nabatea appunto, come poteva non esserci il sandalo, trovate lì all'interno il sandalo, l'oud e l'incenso, come dicevo sono i legni sacri di quella civiltà, ma sono in generale i legni sacri dell'antichità, che venivano appunto fumigati durante i rituali religiosi, quindi lì trovate un'ottima componente di sandalo, ma non c'è solo sandalo, quindi spero di esservi stata utile, spero che proverete questi profumi, e noi ci vediamo presto, ciao!